Questa era mia! Arrivavo io ed imitavo la Ferrari che arrivava da Maranello. È una Ferrari veloce questa, d'altronde sta vincendo spesso negli ultimi tempi. Mi mavo anche il batterista che faceva più o meno così. Il mio padre fu fuori dal bagno. Giù di sta cazzo da radio. Pensavo che ci fosse la radio. E facevo la radio e mi misi ad imitare il basso. Il mio padre fuori dal bagno. Facciamo il finale. Scusate. Grazie, grazie. Grazie per questo applauso. Ti ringrazio, gentilissimi. Arriva, arriva. Sta a Siena, ma arriva subito. Non c'è fermato. Succhia blues, tipo questa qua. Questa è la pantera rosa. Girava i canali. La danza rosa. La danza rosa. La danza rosa. Succhia blues, tipo questa qua. La danza rosa. La danza rosa. La danza rosa. Puff. è arrivato sto treno saliamo sul treno di sera le frecce tricolori arrivano stanno arrivando di là guardate arrivano le frecce tricolori il motorino tricolori grazie grazie